buonasera e benvenuti in questo nuovo video anzi buonanotte anzi buongiorno anzi buon anno perché oggi è il primo gennaio del 2023 e sono le 3 di notte non so se lo vedrete specchiato no non mi interessa sono le 3 di notte ve lo faccio vedere anche da qui dai che vedete lo schermo sono le 305 c'è anche manu di qua però fa niente allora apriamo tanto un baule devo massare il tronco ok mi mancano 10 di due cose comunque minchia 100 notifiche chi è qua ok allora direi subito di andare qua usare il libro delle carte sul tronco ok e ora 100.000 monete tronco a livello massimo allora vediamo cosa c'è all'interno del negozio oggetti oltre il fatto che alla domenica epica c'è niente di che però andiamo in partita anzi c'è questo vediamo qui battaglia qualsiasi facciamo questa proviamo il tronco maxato ok prima partita ok moschettire lì mettiamo no poi mettiamo il domatore ok c'è il bro arrabbiato devo aspettare che avanzino un po così metto lorda di scheletri anch'essa maxata ecco le tronco al 14 ecco servirà qualcosa a difendere perfetto ottimo tronco al 14 che libera la zona per far andare il gran cavaliere e niente comunque lì non lo vedete dietro queste tende c'è manu che da lì sta guardando il backstage via palla di fuoco ok nessun danno facciamo due emote come i tossici carichiamo un pochino di visiro anche lui come ti permetti perché sono più bravo comunque scusate se farlo a bassa voce ma sono le tre di notte ma vabbè mettiamo il domatore di cinghiali ah però sono stupido in questa modalità non posso usare le carte maxate sono tutte all'undici dopo partita nelle coppie pardon mi il video che lo maxiano ma non che lo proviamo però poi lo proviamo comunque una partita alla goliardica dice manu dal backstage dalle quinte dalle quinte adesso questa è un po così per allenar che anche perché è notte quindi troviamo i pro dai ita bravo bravo sbam 1127 di vita la sua e io non ho subito manco un danno 60 secondi alla fine della gara questa sparchi qua togliamola ok vabbè non è che sei adotta però adesso è sparchi ai gran cavaliere ottimo no non gli ho preso il coso state fermi state tutti fermi nessuno si muova questa è una rapa piccola una rapina è merda è la presa nel culo ha fatto un super attacco c'è attacco proprio alla paolo di pala alla tortellini ok principio nero e vabbè però questa frocia c'è l'unico youtuber in italia a dire queste cose cos'è che dico e niente ho perso basta bel colpo di tosse che ho fatto riscattiamo il premio della settimana questo qui lo vedi quello in basso in basso perché siamo ricchi noi siamo ricchi possiamo aprire anche il baulozzo tattico ok questo ma non intendevo lui ok quante cose quante cose vediamo qua prendilo cosa è successo ok vediamo secondo me è quello rarissimo con il principe no andiamo a fare una partita nel cammino dei trofei così proviamo tutto il deck maxato tranne una carta purtroppo però se dovessi mettere l'herry avremmo tutto maxato al posto di lui che non è maxato no non è buono vergogna però lui ha la torre all'undice e al dodici piccolo vantaggio piccolo microscopico proprio quasi invisibile oggi hanno fatto dei fuochi di capodanno incredibili veramente gulose so che non me ne frega un cazzo ma era tipo napoli c'è tipo che non puoi uscire di caso se non muori per la vera vera ma no no ferma quei rubini la notte però si trova la gente forte oggi non si vince la vedo grigia e infatti ha messo veramente bene questa principessa segna 1 a 0 per la principessa anzi no non segnarlo ok questi pistrelli non mi piacciono allora bene ma male 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 ma non troppo dai allora adesso ma devo difendere pure questi e due coglioni però questo è forcio adesso guarda che credi cosa fai abbassa testa di merda abbassa abbassa testa di cazzo testa di minchia cosa fai che dormono tutti che bello mi ha preso la torre un pistrello manu è un birichino come sei birichino ottimo 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 danni 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 tanti danni prendi la torre prendi la torre che bello l'ho messo proprio bene si vede come come io so fare le cose eh ma perché è notte sono stanco e questo può mettere il buongiorno ninja da tavola eh c'è la mongolfiera non me l'avevi fatto vedere non ti vergogni dimmi che fa almeno 200 questo trono la palla la palla non c'ho tempo è finita è finita eh vabbè troppo tardi niente allora vi auguro un buon inizio dell'anno mantenete i vostri propositi non drogatevi non fumatevi non fatevi e un saluto da capibara e da manu del lux inizio vabbè è come sono inglese io oggi bella